Musica Guardo all'insù questa sera per 100 minuti dalle 19.30 alle 21 in tutto il mondo per osservare l'eclissi totale di luna un fenomeno raro e il massimo negli ultimi 10 anni che dalle colline di Ragusa, unica città italiana si potrà seguire nel suo ciclo completo insieme a Stoccolma, Shanghai, città del Capo e il deserto dei Pinnacoli in Australia un fenomeno straordinario che gli appassionati potranno seguire in tutta la provincia una delle prime per l'osservazione del fenomeno che nel resto d'Italia dovrebbe essere spostato di circa un'ora gli esperti temono solo le avverse condizioni meteorologiche che potrebbero condizionare la visuale ottimale del fenomeno Oggi c'è anche un problema, il meteo non è dei migliori quindi non sappiamo se sarà visibile o meno noi come associazione ci riuniremo e cercheremo di fotografare l'evento all'incirca dalle sette e mezza inizia la fase della penombra dalle nove, otte e mezza a nove inizia la fase dell'ombra quindi della totalità poi uscirà dalla fase dell'ombra e rientrerà nella penombra verso le dieci e mezza a undici e dopo mezzanotte sarà già tutto finito gli appassionati dove possono vederla quindi anche da casa loro dal balcone di Regno? Sì, l'importante è che sia visibile la Luna